Grazie al progetto proposto dalla Poliscop per i centri sportivi Jump si è potenziato il sostegno estivo nei confronti di minori in situazioni di fragilità sociale e con disabilità. Da due anni è nato il progetto nazionale Facciamo Rete ideato dai centri estivi sportivi Jump in veste di capofila con il partenariato con l'ATS6, ASI Comitato Provinciale di Pesaro Urbino e la GFI che sono stati finanziati da realtà territoriali che hanno capito il valore del progetto. Questo progetto nasce appunto dalla necessità di aumentare questa ora di educativa e di dare la possibilità a questi bimbi di fare un'attività inclusiva dentro un centro estivo o più centri estivi appunto come abbiamo noi nei centri estivi Jump. Quindi all'interno dell'ambito territoriale 6 quindi del territorio siamo riusciti ad integrare per 14 bimbi ulteriori 40 ore di educativa. Il progetto ruota intorno alla tematica di minori disabili e delle loro famiglie che durante il periodo estivo con la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività ludiche e programmate sportive o ricreative troppo spesso vengono lasciate sole o poco sostenute. L'obiettivo futuro è sicuramente quello di poter ampliare sia le ore per ogni singolo bambino ma anche ampliare il numero dei bambini che possiamo coinvolgere con questo progetto e quindi anche delle famiglie coinvolte da poter aiutare. I centri estivi sono preziosi e l'obiettivo è di renderli sempre più inclusivi e fruibili anche per i minori con disabilità. Un bel esempio di welfare di comunità che dal virtuoso connubio tra il servizio pubblico e quello privato e sociale si creano ulteriori opportunità di inclusione e benessere sociale. I centri estivi sono momenti sempre preziosi, sono esperienze piacevoli di divertimento, di incontro, di aggregazione ed è molto bello cercare insieme il pubblico e quindi il servizio sociale e le realtà del privato sociale del terzo settore che fa in modo che queste attività, questi centri, questi spazi aperti, protetti siano sempre di più inclusivi, quindi possibili e aperti, accessibili a tutti per offrire maggiori opportunità di benessere sociale.